Oggi vi abbiamo portato a vedere un monolocale al Parasio con terrazzo vista mare, una cosa unica, difficile veramente da trovare. Qui abbiamo la cucina con il suo tavolo, questo monolocale è stato ristrutturato completamente qualche anno fa, un divano che è un divano letto con le poltrone e abbiamo la fuoriuscita su questo terrazzo, un pezzo unico nel suo genere, ultimo piano, questo è il terrazzo che ospita tranquillamente un tavolo per sei persone e questa è la vista. Come vi dicevo una vista unica, terrazzo, ultimo piano, come vedete non c'è nessuno sopra e questa qua fianco, indovinate che c'è, la chiesa di San Leonardo, ovvero la casa di San Leonardo. Qui rientriamo dentro, vi faccio vedere anche il bagno, qua la porta è blindata che è l'ingresso, invece è una porta scorrevole, ci porta un bagno, bagno con la vasca e tutti i servizi. Come vi dicevo una vista unica, una posizione stupenda, per maggiori informazioni chiamateci anche per fare appuntamenti, siamo a vostra disposizione. Ciao, buona serata.